Io mi rendo conto che sei emozionato perché mai ho prezzolato e mai ho richiesto un mi piace o un iscriviti Stasera voglio fare invece durante questa partita è buono il giallo per Cassano Cacciolo via! Cacciolo via! Cacciolo via! 99 ce l'ha Lorenzo Orga e guida la moto E allora? Vai! 3.999 sono gli iscritti al canale YouTaus, Snauzi Cacciano, Snazzi Cacciano E allora si, vacci con il tuo account, un attimo, un attimo, con il tuo account vai! No già Frank, iscriviti, è italiano, bella lingua, iscriviti c'è scritto qua, qua sotto sviluppato E vai! E vai Frank! 4.000! 2 per 2 fa 4! 3 più 1 fa 4! 2 più 1 più 1 fa 4! E questo che c'entra? Io sono felice con il tuo account Sushalavan 1! Che vuol dire cavallo bianco in indiano arcaico! Secondo me vuol dire Sushalavan a quella qua dentro il van! Magari! Comunque tu sei il 4.000! Io sono molto contento di questo! Tanti auguri a noi! Sushalavan! 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 Secondo me sono mai durante la partita da Roma Un amico, una brutta persona! Sushalavan! Uno pari! Snazica Channel! 4.000 iscritti! I numeri a volte sono importanti! Leggo il suo video pure! Viva la vita! Bella per te! Sushalavan!